Quello che è accaduto meriterebbe e merita una riflessione più ampia, però credo che sia opportuno che quest'Aula, le consiglieri, i consiglieri, l'amministrazione si stringe attorno alla famiglia di Davide, di Davide Natale per questa morte così drammatica e così tragica. Penso che ieri pomeriggio per chi avesse ancora qualche dubbio sia avuto la conferma di che cosa significa il cambiamento climatico, un terremoto atmosferico, venti che hanno raggiunto i 130 km orari e danni da bilancio da terremoto. Noi oggi abbiamo una persona che è deceduta, abbiamo dei feriti, abbiamo dei crolli, sradicamenti di alberi, una situazione grave per quello che si vede in terra e grave di quello che ancora fino in fondo non sappiamo sia accaduto come danni. Il paese crolla. Chi dovrebbe metterci in condizioni di prevedere non è in grado di fornire indicazioni tali da poter prevedere tutto. Quello che è accaduto ieri era nell'ambito di un'ordinaria criticità d'allerta gialla e credo che quello che è accaduto ieri pomeriggio superava di gran lunga l'allerta gialla. Ma lo dico da un punto di vista empirico perché noi non siamo tecnici, scienziati o persone preposte a fare queste valutazioni. È un tema di cui abbiamo discusso con grande concretezza, efficace e correttezza tutti noi sindaci qualche giorno fa con il capo nazionale della protezione civile. E si deve cogliere questa drammatica circostanza e questa giornata così difficile per la nostra città ma per il paese. L'ultimo aggiornamento parla di nove morti, tantissimi feriti, un paese distrutto. Che se non si cambia rapidamente registro nell'affrontare anche dal basso, quindi anche noi, i cambiamenti climatici e magari provando a utilizzare un dibattito nei prossimi giorni su questo tema per chiedere, mi auguro tutti uniti, a chi governa ma perché qua non possiamo dare la croce a chi oggi governa. La croce la dobbiamo evidentemente dare per quello che non si è fatto negli ultimi 50 anni. Un paese che crolla ha bisogno di investimenti economici, umani e organizzativi per metterlo in sicurezza. Altrimenti ritengo che noi ci troviamo di fronte a una difesa con le mani o poco oltre di quello che abbiamo visto ieri. E io voglio cogliere l'occasione, consentitemelo perché davvero lo sento, di ringraziare. Io ieri ho anche presieduto personalmente una riunione in comune, tutto il personale del comune di Napoli, di tutte le municipalità, di tutte le società partecipate perché credetemi la capacità, la voglia e la passione nella reazione che ho visto ci deve rendere orgogliosi. Non è una questione di appartenenze politiche, io che sto facendo il sito veramente di questo. E un ringraziamento a tutti voi perché so che anche stamattina arrivano telefonate da tutti. Un ringraziamento particolare, lo voglio fare al presidente della Commissione del Verde che ieri insieme a me stava in riunione e che stanotte ha partecipato anche personalmente a una serie di attività. Io penso che questo è il modo migliore per non solo rendere omaggio a una vittima innocente ma anche a sentire quel senso di appartenenza che di fronte a queste calamità veramente ci fa sembrare in alcuni momenti impotenti. La reazione è stata forte, io mi auguro, avrei tante cose da dire ma mi fermo qua, che il Consiglio possa approvare nei prossimi giorni un documento con cui anche chiedere visto che in discussione in questi giorni è una manovra economica importante da parte del Governo e da parte del Parlamento che è venuta davvero l'ora perché altrimenti non vedo più che altro segnale deve dare la vita, un ponte che crolla, città, territori, campagne, montagne distrutte come se fossero state attraversate da un terremoto, soltanto che un terremoto atmosferico, io credo che con l'assenza di risorse che hanno i sindaci dal sud al nord del paese, Napoli non ne parliamo proprio, e l'assenza di mezzi, in questo modo io credo che veramente diventa un'impresa quasi impossibile e siccome non ci possiamo affidare al santo patrono di ogni comune del nostro paese ma noi abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le azioni necessarie per quel che possiamo ma anche chiedere a chi può fare di più rispetto a quello che si è fatto sinora credo che è un dovere morale, anche politico, istituzionale e giuridico perché quello che è accaduto ieri dobbiamo provare in qualche modo a contrastarlo in maniera significativa ed efficace. Io mi auguro che anche nella giornata di oggi dove avremo da qui a qualche minuto un'altra riunione in prefettura, altre riunioni, oggi pomeriggio un'altra ancora possiamo contare, ma ne sono certo, del contributo fattivo di tutti i consiglieri comunali oltre l'aggiunta, di tutti i consiglieri municipali, di tutti i dirigenti, funzionari e gli impiegati perché è anche bello vedere una reazione così compatta da parte della città. Oggi però dedichiamo questo inizio di consiglio comunale a Davide che in un giorno in cui viveva una normale vita di studente universitario si è trovato un albero che gli ha interrotto la vita con raffiche di vento che arrivavano fino a 130 km orari, una tragedia inaccettabile sulla quale tutti quanti noi dobbiamo riflettere e stringerci attorno alla famiglia in maniera commossa e in maniera unita come sappiamo fare noi nella nostra città. Allo scopo di partecipare a questo grave momento di cordoglio vi chiedo un minuto di silenzio. Grazie a tutti.